Uwe Jansson è stata una pittrice prima di tutto, una persona che lavorava con le immagini. Uwe Jansson pubblicava le sue immagini sulle riviste principali del suo paese, la Finlandia. Dipingeva scene di paesaggio e dipingeva il luogo dove poi ha vissuto buona parte della sua vita un'isola, a largo della capitale della Finlandia, Helsinki, che è come un luogo di magia. Un'isola dove spesso è difficile arrivare perché il mare è forte e un'isola dove poi ha abitato lungamente, nel corso degli anni. La Finlandia, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha avuto un'epoca molto dura, divisa tra forze diverse, ha rischiato spesso di perdere la propria libertà. E in questo paese, oppresso da forze differenti, Uwe Jansson ha creato i Moomins, i suoi personaggi, a cui ha dedicato libri, giochi, spettacoli e fumetti che sono stati famosi in tutto il mondo. La striscia dei Moomins veniva pubblicata contemporaneamente sui giornali, più o meno di tutto il globo, e piaceva molto che queste storie avessero a che vedere innanzitutto con dei personaggi molto particolari. Questo, edito da Eperborea, è uno degli albi, i Moomin e le Follie Invernali. Ci sono storie che hanno a che vedere con questi personaggi, che sono per metà troll, quindi creature sotterranee secondo la cultura popolare del nord d'Europa, e per l'altra parte i popotami, come se venisse un incrocio tra diversi mondi, tra il nord e l'Africa. I Moomins sono una famiglia, una famiglia però non tradizionale. C'è un padre che si annoia molto a casa, che considera il quotidiano, le cose che si fanno tutti i giorni, come una sorta di problema che deve superare, e che cerca sempre e comunque l'avventura. C'è poi anche una madre che è molto comprensiva e che fa di tutto perché il padre non si annoi. Il figlio poi è continuamente sperduto, addirittura a un certo punto perde la propria famiglia e dopo un viaggio in mare ritorna al luogo che non riesce a riconoscere solo dopo qualche tempo. Può considerare che quello sia il suo vero mondo. Eppure questa famiglia accoglie persone da altri mondi, adotta figli perché il proprio figlio lo dice, accoglie persone da ogni mondo e rifiuta di fare quello che fanno gli altri, di ossessivamente lavorare per mettere da parte dei soldi, di decidere che bisogna essere, tra virgolette, sempre corretti. Nel mondo dei Moomins l'avventura è più importante di qualsiasi altra idea. E perciò i Moomins sono sempre pronti a partire. In questa terra piena di ghiacci nel nord dell'Europa, quello che davvero i Moomins possono trovare ovunque, anche nelle prospettive meno probabili, è il sole. Il sole di mondi, racconti, persone che vengono da altre parti del globo e c'è in loro una completa non volontà di rispettare le regole. I Moomins non considerano di mandare il loro figlio a scuola. L'educazione si svolge a casa, come quella che in buona parte ha avuto Tuve Janshan, che era figlia di uno scultore, che le ha fatto frequentare le scuole, ma anche molto le ha insegnato a casa, permettendole di vedere il lavoro che faceva sulla materia, l'argilla, il marmo, i materiali che venivano trasformati e resi una realtà, una fisionomia. Prendevano l'aspetto di un essere umano, di un animale. Tuve Janshan ha avuto fama in tutto il mondo e, dalla sua Helsinki, ha scritto in svedese, perché la Finlandia ha due lingue, il finlandese e lo svedese, e due letterature che convivono. È un paese di fiabe, è un paese di libri per ragazzi piuttosto famosi, e Tuve Janshan rimane l'autrice più celebre in quel mondo. I Moomins hanno come loro caratteristica quella di non rispettare l'autorità. Sono creature, quindi, che creano sempre e comunque una possibilità di realizzare i propri desideri. Tuve Janshan ha creato i Moomins ed è stata loro fedele per 40 anni. Per 40 anni li ha disegnati, li ha dipinti, ha raccontato le loro storie, ha aggiunto altri personaggi a queste vicende che piacevano a persone in tutto il mondo e che tutto il mondo vedeva seguite, anche sui quotidiani, sui giornali, sulle pagine di ogni giorno, ma anche in forma di libro. Negli ultimi anni Perbore ha pubblicato svariati episodi di questa saga, ad esempio i Moomins in riviera, in cui per la prima volta riescono ad andare al sole, ma combinano disastri e ripetizione perché assumono l'identità di ricchi conti e marchesi che non sono. Moomin è l'isola deserta, il luogo che sempre torna in tutte le storie d'avventura. E sull'isola deserta ci sono creature spaventose che arrivano. E poi la vera problematica, Moomin è la vita in famiglia, col figlio Moomin che piange vedendo che tutti gli altri sono riuniti in famiglie, mentre lui è da solo, ma di lì a poco ritroverà la sua. Quello che colpisce in Tuve Janshan è la capacità di avere spesso temi molto complicati, molto difficili, raccontati in un modo estremamente semplice. Perciò bambini e adulti hanno adorato questo mondo dei Moomins, un mondo poetico, ma anche pieno di umorismo, ma anche pieno talvolta di un umorismo nero, perché il mondo dei Moomins non evita gli aspetti più duri della vita quotidiana. E i Moomins hanno sempre di fronte a sé le problematiche che tutti affrontano, la povertà, l'essere soli. Tuve Janshan è stata capace, con queste sue creature poetiche, di raccontare per i bambini e gli adulti di tutto il mondo la visione sua della realtà, senza trasformare un dato complicato, difficile, se non nella perfezione di una striscia in cui ogni elemento è riassunto dalla grazia comica e seria allo stesso tempo dei Moomins.